Difesa della salute materno-infantile, educazione alla genitorialità, sensibilizzazione dei giovani alla tutela ambientale ed educazione sentimentale degli adolescenti. Sono solo alcuni degli obiettivi che si propone di raggiungere il macro progetto Regaliamo Futuro, promosso dai pediatri italiani per la salvaguardia della salute psicofisica di bambini ed adolescenti. Esteso a tutto il territorio nazionale, il progetto, in stretta collaborazione con il Ministero della Salute, opererà mediante campagne educative, attività di sensibilizzazione di informazione, strategie di interventi congiunti con tutti gli operatori di salute, a favore della prevenzione e della promozione di un corretto stile di vita. Ad illustrarci l'importanza dell'iniziativa è il dottor Romano Marabelli, capo dipartimento degli organi collegiali per la tutela della salute. Lo spirito di questa iniziativa è una maggiore correlazione tra le attività dei pediatri di base e gli obiettivi del Ministero della Salute, in particolare relativamente alla necessità già individuata dal Ministro Lorenzin, di una maggiore presenza sul territorio della medicina di base, soprattutto nella prima fascia di età, che è quella nella quale è possibile fare una prevenzione relativamente alle malattie croniche, all'obesità, alle malattie degenerative. In questo senso una medicina più vicina ai cittadini e che riduce poi l'accesso a delle specialità nel momento in cui queste patologie si manifestano. Presentate durante la conferenza le iniziative Mangiar Bene Conviene, finalizzata all'educazione nutrizionale e la salute di mano in mano, percorso didattico per la promozione dell'igiene delle mani. A parlarcene il presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva, il dottor Giuseppe Di Mauro. Alcune campagne, quale Mangiar Bene Conviene, l'igiene delle mani è un qualcosa di importante, la salute di mano in mano, col semplice, con l'istituto di lavarsi bene le mani, i bambini a scuola hanno ridotto del 30% delle infezioni respiratorie e gastrointestinali. Non solo, ma hanno portato messaggi positivi a casa che basta dire poche situazioni, quali quelle prima di sedersi a tavola, dopo di essere andati in bagno, il lavaggio delle mani può fare tanto un'abitudine quotidiana ma che va praticata.